Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video in un match day abbastanza importante per la Juve cerchiamo anche un attimino di andare in profondità e di analizzare la questione perché oggi si gioca El Las Verona Juventus che in teoria è una partita ragazzi che sulla carta non dovrebbe dire niente non dovrebbero esserci chissà quali sorprese eppure io in questo momento forse soffro un po' di ansia da prestazione perché voglio ripartire dal discorso che vi facevo ieri e cioè che non abbiamo svoltato, non c'è stata una svolta ma voglio riprendere anche il titolo che ho usato post eventus inter e cioè ammettiamolo qualche cosa è cambiato cerchiamo di ragionare su questi binari ma prima di tutto voglio ricordarvi che questa sera il post partita non uscirà qui sul canale di El Las Verona Juve bensì uscirà sul numero 10 quindi vi invito a scaricare gratuitamente il numero 10 trovate il link qui sotto ok nella descrizione del video post partita classico gratuitamente lo troverete sul numero 10 qui sul canale invece farò uscire direttamente le pagelle già stasera anche perché poi io domani mattina ho un treno presto vado a roma dove giocheremo juventus lazio guarda caso l'ultima partita che poi rimarrà dopo El Las Verona Juve della finale di youtuber league quindi siamo belli carichi vogliamo portarci a casa un trofeo e per quanto riguarda la lega degli youtuber ma sicuramente vogliamo anche conquistare tre punti per quanto riguarda la juve vera e non sarà facile per niente ma proprio in assoluto per niente soprattutto perché ho visto che cosa hanno fatto quelle altre e cioè la roma che pareggia col sassuolo il milan che pareggia con la cremonese incredibilmente l'atalanta che perde con il lecce noi siamo in una situazione che conosciamo tutti sappiamo tutti la juventus che cos'è che cosa doveva essere cosa non è stata e cosa è stata invece durante questi mesi da inizio campionato sappiamo che c'è stata una crisi profonda dalla quale non siamo usciti ma stiamo ricominciando almeno in serie a perché in champions purtroppo abbiamo concluso anzitempo il nostro cammino ma almeno in serie a stiamo ricominciando a trovare una certa continuità di risultati questi risultati dovrebbero passare anche dalle prestazioni e secondo me tra psg e inter soprattutto anzi unicamente nel secondo tempo qualcosa in più si è visto ribarisco non dal punto di vista del oddio creiamo 100 occasioni alla partita faccio le triangolazioni queste cose ragazzi non aspettatevele cioè non è questo la juve non lavora per cercare questo perché allegri non lavora per cercare questo quindi queste sono cose da non aspettarsi finché ci sarà allegri in panchina perché non è il suo modo di intendere il calcio il suo modo di intendere il calcio è un altro e devo dire la verità mi sta stupendo un po' il fatto che allegri stia andando leggermente oltre le sue convinzioni mi spiego mi fa ancora imbestellire il fatto che si perdano 45 minuti ogni partita magari dove non giochiamo un tempo per poi venire fuori in quell'altro perché non è il modo giusto di giocare a calcio nel 2022 dove ogni singolo minuto è importante perché un conto è se non ci riesci un conto è se non ci provi sono due concetti differenti mi viene in mente la sfida tra Barcellona e Bayern Monaco in Champions League dove il Bayern nel primo tempo non riusciva a fare qualcosa perché il Barcellona ci aveva messo tanto e nel secondo tempo invece si è ribaltata completamente la situazione dove il Bayern poi è venuto fuori ha dominato e ha vinto la partita eliminando poi tra l'altro il Barcellona non in quella partita però eliminando il Barcellona dalla Champions League non è che il Bayern non volesse fare la partita e che in quel momento non ci riusciva invece noi l'altra sera non siamo mai mai voluti andare ad offendere l'Inter questa sera come dicevo ieri ci sarà tutto da perdere lato nostro noi siamo la squadra in assoluto che ha tutto da perdere siamo noi e siamo noi per un motivo perché io ora voglio farvi vedere da Soccer Man anche questo link ve lo lascio comunque qui sotto in descrizione la classifica di Serie A Napoli in questo momento inarrivabile sta scappando via però con gli stop di Milan dell'Inter dell'altro giorno contro di noi di Atalanta Roma ed eventualmente della Lazio settimana prossima all'Allianz Stadium vincere stasera e vincere domenica tanto stasera ti porterebbe alla quinta vittoria di fila il che è magico qualcosa di magico perché una delle problematiche grosse della Juventus in questi anni era la mancanza di continuità e in anellare un filotto di 5 vittorie consecutive affrontando tra l'altro anche l'Inter questa sicuramente è una notizia per quella che è questa Juve e per quella che è stata questa Juve fino a questo momento vincere stasera ti porterebbe a quota 28 punti io voglio lasciare da parte il discorso Salernitana ragazzi lo sto sentendo troppe volte lasciamolo da parte sappiamo cosa è successo sappiamo che dovevamo far meglio nel primo tempo come dicevo pochi minuti fa come con l'Inter sappiamo che non abbiamo dato tutto in quella partita sappiamo che c'è stato un grosso errore di valutazione che ha portato la Juventus ad avere due punti in meno ma lasciamole da parte queste cose cerchiamo di parlare di calcio concentriamoci nel parlare di calcio non focalizziamoci sempre solo sulla polemica sempre solo sull'elore arbitrale cerchiamo di ragionare di quello che siamo e di quello che possiamo fare perché vincendo questa sera vai a quota 28 quota 28 significa essere all'interno delle prime 4 per forza di cose ritornare ancora davanti all'Inter ed essere all'interno della zona Champions con uno scontro diretto da giocarti poi con la lastre domenica in casa tua come ultima partita prima del mondiale che potrebbe metterti in una situazione di classifica clamorosa veramente clamorosa rispetto a quella che era l'idea iniziale stasera andiamo a Verona senza il nostro capocannoniere Dujan Vlaovic 6 gol in campionato ma ci andiamo con un Rabiot che ha quota 3 secondo capocannoniere insieme a Milik che dovrebbe giocare insieme a Moise Ken in un attacco 2 con Di Baria pronto a subentrare lo facciamo con un Fagioli che ha segnato 2 gol in una settimana quando è stato rimesso al centro del progetto anzi messo non rimesso perché non c'era mai stato lo facciamo con un Kostic le vedete sono le statistiche che stiamo leggendo a lato che ha già 5 cross in questo campionato quindi lo facciamo con dei giocatori che sono assolutamente in grado di portarsi a casa la vittoria questa sera abbiamo delle essenze? sì non c'è Chiesa non c'è Pogba non c'è Vlaovic ma allo stesso tempo c'è Rabiot c'è Milik c'è Fagioli c'è Kostic che sono giocatori che in questo momento stanno facendo vederla loro stanno dimostrando il loro valore e lo facciamo contro una squadra Lella Sverona che non me ne voglia non me ne voglia ma a parte che in questo momento ribadisco abbiamo solo da perderci noi perché Lella Sverona è l'ultimo in classifica ragazzi abbiamo da perderci noi loro non solo da guadagnarci cosa perdono loro da questa cosa qui? sono ultimi possiamo solo guadagnarci noi cosa ci perdiamo da questa partita? tutto tutto quindi siamo noi siamo noi che dobbiamo stare attenti a questa partita non loro noi dobbiamo stare attenti a questa partita soprattutto perché Lella Sverona dov'è? non la trovo? qua Verona l'ultima Lella Sverona in confronto alla Juventus guardate che tipo di squadra è una squadra che non ha mai fatto clean sheet in Serie A mai mai una squadra che segna poco guardate che buco che c'è nei clean sheet una squadra che non fa passaggi una squadra che non tira in porta una squadra che non fa gol una squadra che dribbla quasi quanto noi e noi siamo scarsi a dribblare è una squadra che fa tanti recuperi quindi aspettiamoci una partita aggressiva da parte della Lella Sverona ma poco concreta ma attenzione non significa sottovalutarli significa ragionare su quello che siamo perché come vi dicevo l'altro giorno l'errore più grande che possiamo fare post inter Juve è pensare di aver scalato una montagna non abbiamo scalato niente abbiamo vinto una partita di campionato come vincere stasera non risolve niente hai vinto soltanto un'altra partita di campionato non è ancora il momento di uscire a rivedere le stelle dobbiamo rimanere ancora all'interno del purgatorio dell'inferno il paradiso ci pensiamo poi eventualmente un giorno se saremo bravi a raggiungerlo non siamo usciti dalla crisi non siamo guariti ma qualcosa è cambiato perché mi guardo indietro e un mese fa queste cose questa prospettiva di classifica era impossibile è l'ostacolo oggi per ritornare a respirare che non significa non significa essere in salvo significa essere da sott'acqua nell'oceano a respirare ma ritrovarti comunque in mezzo al mare e devi raggiungerla alla riva e sembra infinita ma un pochino alla volta ti muovi un pochino alla volta e ti sembra di non fare niente ti sembra di essere in balia delle onde ma un pochino alla volta ti muovi prima eri sott'acqua stavi annegando almeno adesso respiri sei in mezzo al mare la costa è lontana devi nuotare per raggiungerla ma almeno adesso respiri e voglio ripartire da questa cosa qui che avevo fatto vedere anche all'interno di un video la scorsa settimana anzi la sera di Juve Empoli il giorno dopo Juve Empoli perché da quell'abbraccio nel derby di Torino che però era scontato perché era un abbraccio in un momento difficile dove trovavi la vittoria dopo un momento difficile era un abbraccio che valeva poco pochissimo ma farlo dopo anche con l'Empoli la vittoria con l'Empoli quella è tanta roba farlo la sconfitta col Benfica e l'uscita alla Champions quella è tanta roba qui sopra a fianco a me ormai c'è un altro abbraccio che fa parte della grafica dei video quando andiamo ad analizzare certe cose è quello di Lecce una partita che non mi è piaciuta ma che sicuramente è stata conquistata da squadra soffrendo tutti insieme qualcosa è cambiato e quel qualcosa è questo non stiamo parlando di azioni meravigliose azioni bellissime no è cambiato questo da parte dei calciatori perché a parte i calciatori è cambiato questo e da parte dell'allenatore è cambiata l'apertura a determinati profili differenti obbligato obbligato perché McKennie si fa male con l'Ecce nei metteri dentro a Fagioli poi lo confermi con PSG con Inter e magari anche stasera e quindi magari si è accorto che non è che se l'altro si chiama McKennie ha giocato due anni in più tre anni in più di Fagioli è più forte e allora io mi auguro che questa sia stata una lezione per Allegri e che quando torneranno i vari Paredes come è già disponibile oggi i vari Pogba bla 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 mi retti i Fagioli che in questo momento ti stanno tirando la carretta e ti stanno dando continuità di risultato nel momento più importante più importante più difficile vadano riconosciuti perché se no non si è imparato niente si è andati su un'altra linea quindi si è cambiato modulo si è andati sulla difesa 3 a cui io non avrei dato un euro ma che sta funzionando e quindi benissimo continuiamo con la difesa 3 continuiamo assolutamente ma soprattutto la cosa che è cambiata è che Allegri ha deciso di iniziare a giocare in verticale che è una cosa che non gli appartiene non gli appartiene Allegri è sempre stato un allenatore di palleggio magari sterile ma di un allenatore di palleggio che poi grazie alle qualità di un giocatore andava ad imbucare l'attaccante mi viene in mente la coppia di Baleguino banalmente la vittoria di quest'anno col Maccabi con Di Maria che imbucava Vlaovic questo è sempre stato un po' il calcio di Allegri ma adesso si sta andando molto più in verticale si sta sfruttando molto più Filippo Kostic che fino a questo momento era un po' il giocatore di equilibrio per permettere a Quadrado di spregionarsi invece no si è finalmente probabilmente compreso che Quadrado in questo momento ha meno da dare rispetto a Kostic e l'abbiamo visto banalmente in Ventus Inter il primo tempo giochiamo a destra il secondo tempo giochiamo a sinistra e come è finita che Kostic fa un palo due assist tre assist contiamo anche quello a Danilo del gol annullato quindi qualcosa è cambiato un pochino lato giocatori un pochino lato allenatore e se passate dal disastro a una squadra che sta inseguendo una posizione minima perché il quarto posto eventualmente stasera per la Juventus torniamo sulla classifica è una posizione minima ma serve fare un passettino alla volta e soprattutto serve arrivare a gennaio a gennaio anzi al 13 di novembre sera guardando la classifica con un'altra luce con un'altra prospettiva e quindi servono sei punti nelle prossime due e quindi serve non sottovalutare l'Ellas e quindi serve ancora una volta ripartire dallo spirito di gruppo ritrovato e serve ripartire dall'umiltà di dire che siamo una squadra uscita dalla Champions siamo una squadra che aveva perso col Monza perché quest'anno ci abbiamo già perso dall'ultima in classifica non dimentichiamocela questa cosa ci abbiamo già perso in trasferta dall'ultima classifica e se vogliamo dimostrare di aver fatto un altro passettino in avanti stasera tre punti senza se senza ma stasera tre punti senza se e senza ma perché se no non si si butta via tutto quello che si è fatto post derby fino ad oggi in Serie A perché in Champions una cosa a parte che purtroppo abbiamo già archiviato ma in Serie A se non vogliamo buttare via tutto stasera stasera tre punti senza se e senza ma è una squadra che vuole dimostrare di essere definitivamente uscita dalla crisi dopo aver conquistato i tre punti stasera domenica prossima a Torino con la Lazio ne fa altri tre e si saluta e ci si rivede poi post mondiale con uno spirito differente cercando di mettere i bastioni tra le ruote al Napoli al Milan all'Inter a tutte quelle che pensavano di aver già consolidato una certa posizione in campionato perché questa squadra ve lo dico dal giorno zero le caratteristiche per essere dominante in Serie A ce le ha e quello che abbiamo visto fino a questo momento non è stato accettabile non è che ora dato che siamo qui bisogna dire allora mi sono sbagliato no no perché all'epoca non erano accettabili le cose che si vedevano adesso si sta andando verso un miglioramento e questo miglioramento deve concretizzarsi con altri sei punti altri sei se no si butta via tutto sei punti in due partite obiettivo minimo obiettivo minimo sei punti in due partite perché i tuoi gioli te li sei già giocati cazzo forza Juventus ragazzi grazie a tutti i tuoi